Ok, rieccoci a una nuova parte di Dark, di esedità, ma vada che al culo, di Resistence Il sentiero della Resistenza è il recupero del convoglio Ah già, l'arma segreta, chissà cosa conterrà Ma, andiamo a vederlo va Anche qua ci sono i rinforzi italiani e anche io All'attacco Mamma mia, qua ci sono Dove sono? Dove sono? Eccoli Ma allora, ma sono dappertutto, ma sti soldati mi sono buoni a fare niente, porca miseria E beh, infatti, muoiono tutti, ma qua che roba Ma dai, mamma mia, 40 anni per morire Ok, a mali estremi sei mili medi Si è Uo, li uccisi tutti, che grande Un attimo ragazzi, prendo le munizioni e arrivo, eh Allora, la vita a posto Rosmore, ok Sai, bene All'attacco Yeah Quindi è questo ancora più gessico di quegli altri Mamma mia, indietro Qua è una sacca, porca miseria Uh, così si deve fare Porca miseria Cavolo, devo sempre fare tutto io Guarda te che roba Allora Prima di andare, vediamo un po' cosa c'è da vedere Allora Prendi tutto munizioni Eh, volevi fregare Britta bestia Penso io ragazzi Arrivate dai Sacco non fa 4 a salvarvi Si, veramente l'ho abbattuto io Non diciamo balle, eh No Ancora le pantegane Aiuto Qualcuno ha già mica del veleno Cacchio, per ste pantegane No Scarico Mannaggia Sistemato Dai, vieni fuori Vieni fuori Ma cagassotto Va, non esce neanche Adesso arrivo io a sistemarti Madonna Mi serve del veleno Maledette pantegane di odio Attenzione Ole Massacrati Grazi Chi è che rompe le balle? Ah ma Ancora Basta Dai, un bel colpo in di ball Ecco fa Ma guardate Allora Premiamo un po' di munizioni Perché vuoi tu sai Ecco Posto Ok Allora C'è qualcosa qui? Qualche documento? No E rialzati Se sei caduto a terra Con me Non avete Nessuna possibilità Di sopravvivere Io sono un mito Nell'estinzione Della specie Va Soprattutto I quelli che sono Brutte Brutte Porca miseria Come voi Va Allora Mi serve Tutto la vita Mi serve Vita Dov'è che sei? Oh vita Dov'è che sei? Che mi serve Pol vita I need of life Te lo dico anche in inglese Va Dov'è? Oh Eccola qui Oh Ecco qua Altra vita Va Vedi Tu la chiedi Tu la chiedi Eccola qui Ti spunta davanti agli occhi Eh va che roba Vabbè Credo che Massi Andiamo va Ragazzi Seguitemi Va Andiamo Brutte Merde Va Ma da dove salta fuori Tutti qui Cioè questo qua Arriva da destra Ma non l'avevo neanche visto È entrato così Nello schermo Cos'è sta mafia Allora Oh basta con ste pantegane Mi avete rotto le balle Chi è? Salvo io ragazzi Bravi bravi Oh Meno male che qualcuno qui sta a fare qualcosa Tra me Bravi bravi Oh Era quello Oh Mamma mia Aiuto Mamma mia Ma dai ma non finiscono mai Ecco fatto Mamma mia Però ci ho rimesso un po' di vita anch'io Allora È tutto troppo tranquillo E infatti Mamma mia Yeah Prendete questo Faccio da culo È cazzo a rino Come cazzo farli Parla italiana Non ti capisco Mamma mia Bel No Bel bel cagnolino Bel cagnolino No Mamma mia Stammi lontano Rita bestia Yeah Ecco fatto Così impario Ragazzi Se ne rivediamo qualcuno Ricordatevi Palottole d'argento Il convoglio era bloccato nella parte ovest di Manchester Il luogo era sorvegliato da erranti Perciò bisognava muoversi a piedi La squadra di El ci disse via radio che stavano entrando nella cattedrale di Manchester In guerra la cattedrale era diventata un ospedale Abbandonata in fretta Custodiva ancora rifornimenti e munizioni Purtroppo Era anche terreno d'allevamento per alcune specie inferiori di chimera Ok la disinfestazione è arrivata E adesso ci disinfestiamo un bel po' di Pantegane Alla prossima parte ragazzi Ok la disinfestazione è arrivata